Ciao a tutti ragazzi, oggi mi è arrivato un pacco dal Giappone e dentro c'è da questa, una caramella che devi fare te. Il gusto è alla soda e queste sono le brevi istruzioni che bisogna usare. Benissimo, adesso passiamo allo scherpaggio. Dentro troverete queste tre bustine, la numero uno, la numero due e la numero tre. Mettiamoli da parte, in più troviamo dentro un cucchiaino e questo che servirà per fare la nostra caramella. Adesso bisogna andare a levare questo. Dopo che l'abbiamo levato, dobbiamo prendere questo e riempirlo una volta d'acqua. Ora che abbiamo messo l'acqua, la mettiamo dentro questa parte di qua. Benissimo, andiamo ad aprire la busta numero uno e versiamo il contenuto qui dentro. Ora dovremo iniziare a mescolare il composto per quattro minuti circa. Ok, va, si è piegato un attimo questo. Dopo quattro minuti, il risultato che otterrete sarà questa consistenza. Ora, apriamo la bustina numero due e la versiamo sopra il nostro contenuto. E iniziamo a mescolare anche questo per due minuti. Dopo due minuti, il risultato sarà questo. Prendete la busta numero tre, apritela e versatela nell'altro contenitore. Ora, con il bastoncino, fate una pallina così, avvolgetela bene e immergetela nelle caramelle. La vostra caramella è pronta! Tutta da gustare!